Beh, innanzitutto perché è un lavoro che si struttura lungo tutto un anno scolastico e perché non vuole essere né la preparazione a un viaggio studio ai luoghi della memoria e neanche la semplice commemorazione, che comunque rimane un momento importante, attorno alle giornate del calendario civile, cioè vuole essere un'opportunità per gli studenti di tutta Rimini di approfondire meglio la storia della Seconda Guerra Mondiale, della deportazione e dello sterminio, ma essere al contempo un'occasione anche di riflessione che vada oltre la cronologia di quegli eventi, quindi una riflessione che poi si estenda al concetto di vita umana, ieri come oggi, e quindi che cos'è la responsabilità individuale, quali sono le modalità, quali sono le motivazioni che fanno sì che una persona comune aderisca al male, eccetera, quindi che abbini questa formazione storica anche a uno stimolo di formazione morale e politica, politica nel vero senso della parola, cioè di essere cittadini, responsabili e protagonisti della propria vita. Come rispondono i ragazzi a questi stimoli? I ragazzi sono entusiasti del fatto di poter avere uno spazio di innanzitutto dibattito. Quello che manca tragicamente oggi nelle società sono gli spazi aggregativi che diano modo ai giovani adolescenti di maturare un pensiero critico. C'è sicuramente la scuola che è un luogo prioritario così come ci sono le famiglie, però quello che manca, manca la possibilità innanzitutto di dar loro degli stimoli concreti. Noi diamo una formazione storica, quindi una narrazione dei fatti che rimane rigorosa, però con delle domande, con delle grandi domande sull'uomo. E qui i ragazzi reagiscono in maniera commovente, cioè innanzitutto con grande curiosità di capire. Vogliono capire, si rendono conto che non sanno, iniziano tutti pensando di sapere già tutto. Auschwitz, Primo Levi, Anna Frank e cosa sarà mai? Hanno visto tutto in televisione. Invece poi facendo un percorso con loro, decostruendo anche quello che loro pensano di capire, si rendono conto che il nocciolo non è tanto l'informazione cronologica, ma cos'è accaduto, qual è stato in quel momento e in quali altri momenti c'è un cortocircuito dell'umano. E quindi lì si mettono veramente in gioco, anche con grande generosità, soprattutto perché in questo progetto sono liberi, non sono giudicati, non sono giudicati né con voti scolastici né con apprezzamenti di altro tipo. È uno spazio libero, come se fosse una micro società, non si conoscono tra di loro, anche questo è interessante, sono ragazzi che vengono da tutte le dodici scuole superiori di Rimini, molti stranieri, molti invece italiani residenti da sempre qui, diversissimi tra loro, ma che hanno in comune una cosa, la voglia di conoscere la storia e anche di capire qualcosa di più su loro stessi. Io penso che ogni azione amministrativa debba avere lo scopo educativo dietro, se no non avrebbe senso fare quello che facciamo, lo dobbiamo fare avendo una visione anche di un lungo periodo, pensando ai giovani vuol dire pensare al nostro futuro, ad avere cittadini responsabili, formati, profondi nei loro pensieri e anche liberi di esprimerli e di trovare un'amministrazione che li ascolti, che un amministratore faccia un viaggio insieme a loro, condivida dalla colazione alla cena e a tutti i loro dubbi, le grandi domande, è una responsabilità politica molto importante, non è solo un condividere un'esperienza, ma è veramente condividere un percorso che serve a tutta la città. Ognuno di quei ragazzi sono 220, non sono grandi numeri, ma ognuno di quei ragazzi potrà portare quello che ha vissuto il proprio momento in tutti i luoghi dove andrà, che sia l'università, che sia un domani il lavoro, che sia una casa quando avrà dei figli. Ecco, questo è uno stimolo molto importante per l'amministrazione, avere questa visione di una prospettiva futura e di avere cittadini responsabili e formati su queste tematiche perché veramente non si possono più creare quelle condizioni.